Carlo Masci, avvocato ed esponente di spicco di Forza Italia, è il nuovo sindaco di Pescara. L'affermazione è arrivata al primo turno grazie al 51,33% dei voti. Un trionfo quasi annunciato per Masci che corona così il suo sogno di poter guidare il capoluogo adriatico. Non è riuscito ad arrivare al ballottaggio il candidato del PD Marinella Sclocco, ex assessore regionale della Giunta d'Alfonso. La Sclocco ha chiuso con il 22,87% delle preferenze. Il Partito Democratico è tornato comunque a riprendere quota dopo la delusione delle regionali con il risultato di Pescara che può considerarsi un punto di partenza in vista delle prossime sfide. Al terzo posto la candidata del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, arrivata al 12,94%. Alla di sotto della tese Carlo Constantini con Faremo Grande Pescara che si è fermato al 6,35% e che però guarda con fiducia alla realizzazione della Grande Pescara. Più staccati gli altri candidati a sindaco che non entrano in Consiglio Comunale. Gianni Teodoro con il 2,62% e l'omonima lista Stefano Civitarese di Coalizione Civica con il 2,54%. Gianluca Baldini con Riconquistare l'Italia con lo 0,77% e Mirko Iacomelli di Casa Pound con lo 0,57%. Andiamo ad ascoltare le parole del neosindaco di Pescara Carlo Masci e dell'avvocato Carlo Costantini. Guardo solo avanti, guardo solo al bene di Pescara perché Pescara merita tutto. Dormirà questa notte? Sì, sì, sono tranquillo. La mia forza e la mia serenità. La tranquillità con cui ho vissuto questi anni, anche anni bui, con cui ho vissuto questa campagna elettorale. Io spero di poter collaborare veramente con l'opposizione che si va formando. Intanto gli otto candidati a sindaco hanno con me fatto questo percorso di 30 giorni. Si sono anche rafforzate amicise che già c'erano e anche stima reciproca. Quindi sono certo che collaborerò con loro per i grandi obiettivi che dobbiamo cogliere per Pescara. Io voglio essere il sindaco veramente della conciliazione di questa città. Bisogna fare il conto con i conti, con il fatto che i miei candidati erano tutti quanti alla prima esperienza. Nessun candidato navigato, nessun candidato portatore di pacchetti di voti. E io stesso ero fuori dall'impegno politico da tanti anni, almeno da 5-6 anni. Quindi la nostra proposta è stata una proposta nuova, basata su un progetto molto concreto, che è il progetto di costruzione della nuova città, ma evidentemente abbiamo pagato lo scotto dell'essere partiti tardi, probabilmente, due o tre mesi a disposizione. Non lo so, forse anche la concomitanza con lezioni europee ha generato uno spostamento di consensi a favore dei partiti, i cui simboli erano presenti anche nella scheda elettorale dell'europea. Però, indipendentemente dal tutto, essere arrivati quarti come proposta politica completamente nuova, completamente svincolata dai partiti, aver preso la metà dei voti dei 5 Stelle, tanto per fare un esempio, che hanno dietro un'organizzazione di partito, sono al governo, hanno il vicepremiere, insomma sono dati che tutto sommato devono lasciarci anche qualche margine di soddisfazione.